A ogni inizio sezione ho inserito alcuni appunti sulla poesia che raccolgo da un po' di tempo. Mi sarebbe stato consigliato di raggrupparli a parte per non appesantire i testi già dal primo verso e non intimidire il lettore e forse confonderlo. Credo fosse un consiglio tutt'altro che infondato, ma non mi importa. Mi piace l'idea di presentarli come una sorta di siparietto o piccolo test di tenuta. Nei mesi hanno anche avuto la funzione di tenere viva in me la domanda sul senso che avrebbe scrivere poesia quando è evidente che non interessa quasi a nessuno. Le ragioni dell'ormai nota condizione di quest'arte sono di certo più profonde di quanto gli appunti avrebbero l'ambizione di indicare. Andrebbero forse ricercate nel progressivo offuscamento di quello sfondo arcaico da cui il linguaggio emerse, per arrivare allo sradicamento di quest'ultimo, così iperinformato, iperspecializzato, privo di misura e in bilico sul nulla. Dalla nota dell'autore.